Ah! Ah! Dove mi trovo? Aspetta! Tu sei il comandante Erwin! E tu invece il capitano Levi! Oh mio Dio! Ma voi siete i miei eroi! Beh, l'avresti mai detto Erwin? Siamo i suoi eroi! Dico sul serio! Sono il vostro fan numero uno! Probabilmente avrà dei nostri poster appesi in camera sua. Ce li ho! A quell'età di solito si hanno poster di ragazze, mentre lui ha noi. Non significa nulla. Immaginalo mentre se lo prende in mano guardando la tua faccia. Levi pianta. Avanti! Immaginalo mentre si scatena lanciando schizzi a non finire su quelle tue folte sopracciglia che ti ritrovi. Cosa? Te lo stai immaginando Erwin. Levi! Te lo stai immaginando, vero? Perché io ho un'immagine piuttosto vivida nella testa! Ma lui fa sempre così! Ha bevuto un po' troppo. Su, serio? Ma l'hai vista la faccia che ha? Sembra Helen Keller quando ha toccato per la prima volta l'acqua. Levi! Le sue lacrime sapranno di poesia. Di ordino di smentere. Guardatemi, mi chiamo Minicazzo e riesco a trasformarmi in un gigante. Ma dimentichiamoci di tutto e andiamo a venerare Justin Bieber. Chi è Justin Bieber? Un cantante pop. Uno stronzo del cazzo. Per le mura, Levi, ricomponiti un po'. No, Erwin, perché al contrario di questo coglione con le mutandine da donna, io spacco i culi benissimo anche da solo. Capita? Era una citazione a Shrek. Fai un sacco di citazioni, tu. Io sono tipo il dio delle citazioni. Shrek is love. Sapete, non... non è così che immaginavo di incontrare i miei eroi. Chi se ne frega, Minicazzo! Devi scusarlo. Puoi startene zitto, Levi. Ma sì, certo, fai un po' come ti pare. Almeno avrò tempo per trovare altre citazioni da usare. Grazie a Dio. D'accordo, Eren. Resterai qui finché il corpo di gendarmeria non deciderà cosa fare con te. Tu li terrorizzi, ma noi sappiamo la verità. Non sei un gigante, ma un salvatore. La vedi questa? La tenevi al collo quando ti abbiamo trovato. Sai dirmi cos'è? Una chiave? No, è il destino! Secondo i tuoi compagni, questa chiave racchiude il segreto per sconfiggere i giganti. Serve anche ad altro, ma... sì? Se è così, allora ascolta l'offerta che ti propongo. Sei stato un aiuto prezioso nella battaglia contro i giganti. La perdita del Wall Marie è stato un duro colpo. È stato molto difficile reagire e da allora siamo fermi sulla difensiva. Ed io voglio usare te per ribaltare questa situazione. Così da riprenderci finalmente il mondo che ci spetta di diritto. Voglio che tu, Eren, ti unisca nel corpo di ricerca. Accetto la sua offerta, comandante. Io voglio entrare nel corpo di ricerca e spazzare via tutti quei dannati giganti. Aspetta, il suo cognome è Jägar. Sì? Ma questo cambia tutto! Jägar Bomb! Non posso credere che sia il tuo cognome. Ah, ragazzino, ti sei appena scavato la fossa. Cosa, che cosa vuoi dire? Ok, Erwin, mi sta simpatico. Piccoletto, dovrai poi considerarmi pure come un fratello maggiore. Sei fatta eccezione che se ti trasformi io ti ammazzo, ma non devi preoccuparti. Ma sono già parecchio preoccupato. Sta zitto! Tutto ciò che devi sapere è che il tuo cognome è fottutamente fantastico. E credimi ci faremo tanti bicchieri io e te. Jägar Bomb! Non ci posso credere, cazzo. Allaccia le cinture, piccoletto. Perché adesso non si torna più indietro.